Tentato omicidio aggravato con questa accusa, la polizia ha arrestato i due giovani che lo scorso 6 maggio, a bordo di una Fiat Panda, si sono lanciati a folle velocità contro una decina di ragazzi che erano in fila all'ingresso di una discoteca salernitana. Avevano per gli agenti il chiaro intento di ucciderli. Ad evitare il peggio è stato il caso, una transenna che si è incagliata sotto la vettura, rallentandone così la corsa. Per entrambi è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari dagli agenti della squadra mobile e da quelli dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. Gli indagati provenienti dalla provincia di Napoli lo avrebbero fatto per vendicarsi di essere stati allontanati dal locale della zona orientale salernitana, perché ritenuti dalla sicurezza molesti. Ad accertare la loro identità le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che i due avessero fatto finta di andare via, per poi salire a bordo dell'auto, urtando il cancello che separa il parcheggio dall'ingresso del locale per verificarne la resistenza, per poi abbatterlo, investendo infine i ragazzi che erano fermi all'entrata della discoteca.